dal marsupio di mrs gray spunta ancora solo la sua testolina ma a guardarlo bene il piccolo canguro grigio orientale sembrerebbe quasi pronto a spiccare il suo primo salto nel mondo esterno quando la sua mamma bruca a terra lui allunga il collo per curiosare ed annusare ma evidentemente non è ancora pronto a lasciare quella tasca che lo contiene così premurosamente di lui non sarà possibile datare l'età né il sesso finché non deciderà di uscire e lasciarsi osservare ma a giudicare dal suo sguardo vispo sembra già che mamma e papà avranno un bel da fare i tre compongono una famiglia molto equilibrata il piccolo sembra essere il frutto di un vero e proprio colpo di fulmine tra mister e mrs gray nato a parigi lui e in germania lei si sono incontrati per la prima volta al parco natura viva nel 2017 si sono piaciuti subito e anche la nascita del loro primo genito non ha cambiato di molto il loro affiatamento non si allontanano mai l'uno dall'altra e anche se lei protegge molto il piccolo qualche volta lascia che il papà si avvicini fino ad annusarlo per bene nei mesi a venire sarà la mamma a seguire e guidare il cangurino nei suoi spostamenti fino a quando non diventerà completamente indipendente proprio come un canguro grigio adulto dell'australia orientale